Ciao, sono Alberto Spatola e sono candidato per il Consiglio Comunale di Genova, con la lista Gianni Crivello Sindaco. In questi cinque anni sono stato consigliere sul territorio di Sestriponente Cornigliano e ho avuto modo di conoscere la concretezza amministrativa di Gianni, per cui sono al lavoro per Genova e perché Gianni Crivello sia il prossimo sindaco. Sono al lavoro per una Genova con più opportunità, più attenzione ai cittadini e più europea. Una città con più opportunità perché da giovane studente e lavoratore penso che sia arrivato il momento che Genova possa tornare a crescere, ci sia finalmente progresso per la nostra generazione non solo. Una Genova con più attenzione ai cittadini perché la macchina comunale ancora non riesce a rispondere alle esigenze e noi amministratori dobbiamo impegnarci per questo. Una Genova più europea perché in questi cinque anni ho avuto l'opportunità di stare cinque mesi in Slovenia a studiare dove mio nonno invece ha fatto la seconda guerra mondiale. E quella bella esperienza la voglio portare qui sotto la lanterna. Se avremo modo di conoscerci e di raccontarti anche la mia storia sarò molto contento, per cui in questo mese girerò la città con la bicicletta e con i mezzi pubblici, altrimenti ci vediamo l'11 giugno e buon voto. Grazie. 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 Grazie.